Monte Sarchio è un comune campano della provincia di Benevento, i cui abitanti sono detti Montesarchiesi o Sarchiesi e il cui santo patrono è San Nicola di Bari. Situato nella valle Caudina, dominano sulla città il Monte Taburno e la collina, denominata Torre, riprendendo il nome del monumento che da secoli la domina, la Torre di Monte Sarchio, appunto, che vi si erge. Oltre alla Torre, la collina ospita un castello e, più in basso, sulla collina, le due parti della città vecchia, il lato vetere e il lato nuovo. La collina domina una vasta pianura dove la città si è espansa negli ultimi decenni. Inoltre, nella periferia vi è una strada di comunicazione che conduce sul Monte Taburno e ai borghi situati ai suoi piedi, denominata via Vitulanense, incontrata a Monaca. Genius loci di Montesarchio è Ercole, che appare anche nello stemma comunale. Tale personaggio fu scelto a simbolo dei Patrioti per l'unità d'Italia, che a Montesarchio avevano una forte rappresentanza e che facevano capo a tre grandi vendite carbonare, la Erigno, la Deucalione e la San Teobaldo. Dopo l'unità, tale simbolo divenne mito paesano, tanto che fu costruita una fontana monumentale, sita in piazza Umberto I, detta comunemente Mont-Ercole. La cosa fu tanto più avvalorata dal fatto che nella fonetica popolare, Montesarchio, era deformata appunto in Mont-Ercole, prestandosi a questo mito risorgimentale che nacque nelle Accademie del Libero Pensiero. Lo slogan del borgo è Hercules Alexicacos, inteso come nome tutelare e custode delle proprietà ed inoltre allontanatore dei mali dalla comunità stessa. Questo motto appare anche nello stemma del comune, con l'immagine dell'eroe mitologico che brandisce una clava. Sulle etimologie del nome ci sono diverse teorie. Le più accreditate sono Mons Arcis, ossia Monteforte, in quanto monte munito di difese, e Mons Arcolo, monte di Arcolo, ovvero il primo condottiero longobardo che fortificò il paese con un castello. Montesarchio non è altro che l'antica Claudium Sannita che ebbe parte nella lotta contro Roma e che partecipò all'evento famoso delle Forche Caudine. In seguito divenne città romana e con l'avvento dei longobardi spostò il suo sito della pianura, dove era in origine, alla collina. Il suo territorio è attraversato dalla via Francigena del sud, che segue il tracciato dell'antica via Appia, prima strada consolare costruita dai romani nel 312 a.C., per questo detta regina via Arum. Nel territorio di Montesarchio avvenne anche la battaglia che sancì il passaggio del potere dai longobardi ai normanni, con il combattimento e la morte dell'ultimo duca longobardo, pandolfo IV. Il castello di Montesarchio, di forte valenza strategica, ha rivestito nei secoli il ruolo di castello reale, passando dal potere longobardo ai normanni, agli svevi, agli angioini e agli aragonesi. Detto castello è stato sempre gestito da un fedelissimo della corona in quel momento imperante, avendo diritto anche alle esazioni doganali sul frumento, vino e olio provenienti dalla Puglia, verso il regno di Napoli. Borgo significativamente fortificato ha visto nei secoli diversi aggiornamenti del suo castello e della sua torre. L'ultimo importante rifacimento risale alla fine del 1400 ed è attribuibile all'architetto Francesco di Giorgio Martini. I personaggi più storicamente rilevanti sono i principi di casa Davalos, illustre famiglia proveniente dalla Castiglia, in Spagna, trasferitisi nel napoletano nel 1400 al seguito di re Alfonso I d'Aragona. I Davalos dettero al paese una forte connotazione commerciale, tuttora sussistente, istituendo due fiere settimanali che in passato furono le più importanti del circondario.